salve a tutti amici nefili ben trovati a questa recensione come promesso qualche tempo fa non so magari più attenti di voi si ricorderanno mi è venuta voglia di parlarvi di due registi clavorosamente assenti dal canale su questo canale se non per qualche riferimento fugace in qualche video aggiornamento speciale insomma niente di significativo cioè sto parlando di michael powell e emmerich presburger rispettivamente classe 1905 e classe 1902 due geni assoluti del cinema britannico e della storia del cinema in generale tucur e hanno diretto davvero una incredibile serie di capolavori sono abbastanza dimenticati cioè mi sembra di capire non è che se ne parli poi moltissimo su web però davvero io li adoro in modo viscerale per me alcuni loro film sono tra i migliori nella storia del cinema e in generale hanno una filmografia davvero strepitosa senza contare il fatto che michael powell da solo anche ha diretto fior di capolavori oggi parliamo di scarpette rosse che insomma forse segna il vertice della loro arte per una serie di motivi anche da un punto di vista commerciale visto che si tratta incredibile forse caso più unico che raro di un'opera incredibilmente sperimentale però che ha un strepito successo al botteghino è un'opera del 1948 di cui adesso diremo qualcosina in modo fugace labile e veloce però balza agli occhi senza dubbio questa particolarità caso più unico che raro come sottolinea giustamente paolo merighetti nella sua ineccepibile recensione sul dizionario cioè si tratta davvero diciamo anche di un unicum della storia del cinema in cui un film talmente visionario dalla carica sperimentale talmente accentuata davvero un film avveniristico per mille motivi e pieno di ricercatezza pieno di anche elementi plastici astratti onirici insomma non che sembra che sulla carta ecco sulla carta possono sembrare di solito quando sono presenti in altri film elementi che allontanano il pubblico comunque non esplodono e non portano poi l'opera ad avere un clamoroso successo al botteghino e invece qui si tratta di un'opera che ebbe un clamoroso successo al botteghino forse si tratta non conosco i numeri e non sono andato a cercarli però senza dubbio è tra forse i più grandi successi della storia del cinema britannico e della storia sicuramente dei film tra i film diretti da paolo e presburger e qui alla mia sinistra vedete diciamo un fotogramma di una scena particolarmente significativa e poi magari ci torniamo proprio in questo momento si è spento il lettore però ricordatevi quel verde perché è determinante quindi scarpette rosse è un'opera geniale e cerchiamo di capire quali sono i pregi quali sono le caratteristiche di questo splendido capolavoro power power e presburger sono attivi sin dagli anni venti sono spesso quando collaborano veramente scoprono di essere in sintonia perfetta per mille per mille motivi hanno un senso della fantasia un senso dello spettacolo un senso della ricerca un senso della sperimentazione davvero acuto sia a livello di scrittura sia a livello di realizzazione visiva e di messa in scena delle loro idee e dei loro soggetti e delle loro sceneggiature sanno davvero dare alle storie che raccontano una particolare natura perché con i movimenti di macchina davvero strepitosi con la ricerca scenografica davvero che lascia senza fiato e sbalordiri dalla la collaborazione con i celsi direttori della fotografia jack art jack cardiff è uno di questi sono riusciti sempre a rendere il loro film un'esperienza un'esperienza che 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 sconvolge lo spettatore ma sanno anche poi mettere il dito spesso nella piaga sanno anche trattare temi che non sono proprio commerciali che non sono proprio trasversali che non sono proprio facili che non sono proprio alla portata diciamo così dello svago penso a duello a berlino il titolo originale è the life and dead of colonel blimp 1943 è un film che ha fatto epoca ma ha fatto anche scalpore perché in piena guerra 43 1943 ok sì perché non parla della seconda guerra mondiale però parla dell'amicizia tra un inglese e un tedesco e quindi in qualche modo sono registi che riescono anche a destare scandalo con i soggetti che scelgono e con il modo coraggioso che hanno di affrontare questi 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 temi scala al paradiso altro narciso nero cioè sono veramente dei capolavori assoluti con i quali ci troviamo guardando i quali non rimaniamo solamente sconvolti dalla sopraffina eleganza e dalla diciamo ricercatezza lo ripeto l'ennesima volta visiva dalla visionarietà di questi di queste opere ma rimaniamo colpiti anche dall'intelligenza con cui certe storie non certamente ripeto facili sono trattate ad esempio nel caso di scala al paradiso c'è il tema della morte dell'aldilà del volerle stare legate alla vita a tutti i costi anche quando sembra giunta la nostra ora dell'importanza di certe cose passioni legami sentimenti che non possono che danno senso alla vita e che non si fa fatica a rinunciare quindi melodramma che si tinge spesso di tragedia estreme ossessioni che pervadono l'esistenza di protagonisti poi per altri dei loro film interpretati sempre da straordinari attori qui ovviamente nel caso di scarpette rosse il trio di attori Anton Walbrook Moira Shearer e Marius Goering è un trio eccezionale che dà davvero prova di affianamento ma qui si tratta di talenti all'esistenza potenza anche perché ricordandoci che per scarpette rosse Paolo e Persburger hanno affidato le parti dei ballerini a veri ballerini c'è una vera compagnia di danza che si presta a recitare in questo splendido film per allestire appunto poi spettacoli teatrali all'interno della storia gli spettacoli di balletto sono fondamentali le opere musicali di danza sono fondamentali in scarpette rosse non solamente ovviamente quella che dà il titolo all'opera scarpette rosse da una favola di Christensen che viene citato all'inizio e alla fine proprio perché il nome dell'autore delle favole della Disney per intenderci molto spesso campeggia e troneggia sul dorso di un libro chiamiamolo così una sorta di fotogramma che colpisce all'inizio e alla fine e perché arde questo cioè il fotogramma arde grazie alla luce di una candela che lentamente si consuma e che all'inizio vediamo bella alta e imponente poi alla fine nel quattro terzi folgorante bellissimo di questo capolavoro incredibile la candela si è consumata come sono consumate le vite dei protagonisti di questo triangolo che vi ho nominato e che in realtà è un triangolo di due maschi c'è un impresario e un musicista e la ballerina Vicky Page interpretata dalla Shearer un triangolo sì amoroso ma in realtà un triangolo che si costituisce e che conosce drammi e conflitti in nome dell'arte e in nome dell'ossessione dell'arte e questa candela in qualche modo si è consumata durante tutto il film perché alla fine la vediamo quasi completamente spenta quasi completamente a terra quindi la fiamma della passione dell'ardore del 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 travolgente attaccamento alla alla perfezione alla mania di perfezione la voglia di essere di essere impeccabili nella creazione di un'opera quasi che fosse un dovere quasi che fosse un obbligo quasi che fosse un qualcosa di cui non si può fare a meno creare l'opera perfetta ecco questa sorta di passione attraversa tutto il film e alla fine noi ritroviamo proprio quando abbiamo la scritta fine lo stesso fotogramma iniziale con la fiamma e la candela che si è consumata praticamente come la vita della protagonista victoria page che è ossessionata dalla danza dal balletto e da praticamente la storia delle scarpette rosse la storia della fa dell'opera della favola e poi dell'opera danzata del balletto che mettono in scena metafilm e che dura circa 15 minuti la scena la lunga sequenza in cui viene realizzato questo balletto in modo diegetico perché all'interno del film ci troviamo nel teatro di Monte Carlo dove viene allestita viene data la prima la prima di quest'opera e diciamo così questa la novella è incentrata proprio sul fatto di questa ballerina che è ossessionata dalle scarpette rosse e una volta che le ha indossate non riesce più a smettere di ballare e come giustamente ricordano i critici quando analizzano questo film è la novella stessa ad avere prima ancora che del film è la novella stessa ad avere un finale incredibilmente cruento incredibilmente folle perché la protagonista della novella scarpette rosse della favola si fa tagliare i piedi perché non riesce più a smettere di ballare il ballo è diventato quasi un'ossessione è diventata una quasi una condanna e quindi per tornare a respirare e per tornare insomma per uscire fuori da questo tunnel che ha che disperazione quindi si sceglie sceglie la protagonista di farsi tagliare i piedi io non ho letto la novella però questa è una cosa abbastanza diffusa questo elemento di riflessione in cui in realtà la tragedia di cui il film si tinge è in realtà anche il finale tragico è l'eco in qualche modo del finale reale della novella di una favola che non ha gli etofine come ci aspetteremmo e quindi questa cosa va sottolineata va detto che lo script del film vergato da Presburger da Emerick Presburger risaliva di fatto al dieci anni prima del 48 quindi a prima della guerra fu venduto, fu commissionato da Alexander Corda e venduto ovviamente al produttore se non che il film non si realizzò passano dieci anni e i due registi amici Sodali, Paolo e Presburger vogliono a tutti i costi realizzare autonomamente Scarpette Rosse è un progetto nel quale credono nel quale vogliono tuffarsi anime e corpo quasi fossero loro per primi desiderosi di trattare in un film manifesto la loro ossessione di creare mondi di creare opere che poi è la stessa dell'impresario dell'impresario del film diciamo così l'Hermontov inflessibile luciferino e quindi in qualche modo loro sentono l'esigenza di manifestare chiaramente di trattare in modo palese questa loro attitudine questa loro ossessione sono stati sempre nella tutta la loro carriera estremamente ossessionati dalla forma sono stati estremamente attenti al lato tecnico poi dei loro film sono stati dei grandi inventori a livello visivo hanno fatto fare al cinema incredibili passi da giganti passi in avanti a livello tecnico di messa in scena fotografico di montaggio scenografico il film peraltro vince due premi Oscar per la musica e per le scenografie che davvero sono strabilianti ma l'apporto di Cardiff e della fotografia alla fotografia è sensazionale le loro intuizioni hanno segnato la storia del cinema se pensiamo che grandi geni del cinema dopo di loro a loro si sono ispirati in primi Smarty Scorsese che insieme a Schumacher è tra coloro che hanno finanziato il restauro di Scarpette Rosse per dirvi il taglio di montaggio che abbiamo citato tantissime volte più famoso a storia del cinema cioè quello dell'osso che diventa astronave in 2001 se nello spazio è in realtà un rimando che fa il buon Kubrick a proprio un film di Paolo de Pressburger in cui c'è l'acquilla che diventa l'uccello che diventa aereo insomma quindi ci troviamo davvero stesso tipo di inquadratura stesso taglio di montaggio stesso stesso modo di riflettere di accostare cose che hanno una forma simile ecco mettiamole in questi termini quindi voglio dire sono davvero stati geniali e sono stati estremamente certosini puntigliosi maniacalmente legati proprio all'idea che la creazione artistica dovesse essere perfetta perché come dice giustamente per farvi capire il tipo l'impresario Lermontov nel film lui non sopporta non sopporta quelli che insomma i principianti non i principianti le insomma le esibizioni amatoriali ecco lui vuole la massima professionalità la massima perfezione nell'esibizione artistica nella creazione artistica la esige da tutti i suoi collaboratori e soprattutto da se stesso ed è pronto a sacrificare tutto per questo tipo di idea questo tipo di creazione questo tipo di ossessione ecco questo è proprio è uno dei fili conduttori di tutta l'opera di tutti i centotrenta circa minuti di Scarpette Rosse in nome dell'arte bisogna essere disposti a sacrificare tutto i sentimenti l'amore la famiglia la stabilità e quello che sembra piacere alle persone comuni normali quindi figli mangiare bene avere orari regolari in nome dell'arte tutte queste regole tutte queste abitudini bisogna eliminarle toglierle perché l'arte esige massima dedizione massima energia senza senza risparmiarsi ecco utilizzare tutte le proprie risorse senza risparmiarsi benissimo quindi dicevo nel 48 dopo dieci anni Paolo e Presburgia ricomprano avevano avuto già dei successi al cinema appunto della Berlino appunto Scala al Paradiso che mi sembra è del 40 del 40 del 46 e quindi possono permettersi di rischiare il tutto per tutti in un progetto molto ambizioso e quindi ricomprano lo script che avevano cioè che avevano realizzato su commissione e si danno da fare per questo per la realizzazione di questo progetto che ripeto è poi una delle summe della loro arte e uno dei capolavori del loro cinema benissimo ok e quindi esce fuori quest'opera che racconta inizia in modo già estremamente dinamico estremamente furioso estremamente cioè i due registi sono in grado attraverso gli attori e attraverso i personaggi che noi vediamo voler entrare a tutti i costi in un teatro londinese a vedere un'opera di un illustre compositore in realtà c'è questa scena che è costruita con una sapienza incredibile perché sono ore e ore che questi giovani sono fuori dal teatro vogliono entrare a tutti i costi in questo teatro vengono aperte le porte di questo teatro e c'è proprio con il taglio dell'inquadratura colori colori dei vestiti di questi di questi di questi giovani l'uso delle scenografie perché devono salire delle scale per andare per andare a prendere posto a teatro e tagli di montaggio arditi già arditi da subito dall'inizio del film il film che diventerà poi una fantasmagoria incredibile di di invenzioni visive noi percepiamo proprio l'energia il dinamismo questo dinamismo che poi alla fine del film tornerà perché dopo tutta la baraonda di situazioni che si è venuta a determinare quando Mickey Page tornerà a indossare le scarpette rosse perché dopo un anno trascorso lontano dal teatro che conta perché ha scelto di farsi una vita normale di diventare una moglie sarà richiamata dall'impresario sarà richiamata dalle scarpette rosse quasi risucchiata nel turbinio della creazione artistica di altissimo livello da realizzare a tutti i costi sarà trascinata verso questo abisso anche di morte e disperazione perché la creazione dell'arte sta proprio lì al confine con il tracollo e la disperazione e l'ossessione di morire per i domi dell'arte e dell'estasi di cercare anche nel momento cruciale della propria esistenza cioè nel momento della morte la massima realizzazione la massima espressione dell'eleganza della bellezza che sta nei dettagli che sta nei gesti perfetti ecco anche in quel momento in cui le scarpette rosse sembrano prendere anche nella realtà il sopravvento sulla ballerina non solamente nella finzione scenica ma anche nella realtà quindi è come se si stesse realizzando quello che sulla scena e sul palcoscenico abbiamo visto a metafilm si sta realizzando davvero nella parte finale del film dove le scarpette rosse sono le protagoniste ormai è come se avessero preso possesso dell'anima dell'intenzione della coscienza di Vicky correndo a capofitto disperata giù dalle scale questa volta a chiocciola del teatro abbiamo la stessa frenesia abbiamo lo stesso tipo di montaggio serrato abbiamo appunto lo stesso verticalismo lì erano i giovani che salivano con furia ed energia le scale qui invece è Vicky che scende con furia ed energia le scale lì l'energia la percepivamo all'inizio del film l'abbiamo percepita anche perché i giovani erano talmente eccitati che hanno strappato la locandina dello spettacolo appeso al muro davvero era un'onda inarrestabile e qui abbiamo le scarpe le scarpette rosse ai piedi di Vicky che sono al centro del fotogramma protagonista indiscusso ormai Vicky è diventata le scarpette che indossa visto che sono inquadrate loro non è inquadrata l'attrice a figura intera non vediamo la sua espressione vediamo le sue scarpette che si precipitano giù per le scale a chiocciola con lo stesso tipo di ritmo che viene impresso all'opera grazie al montaggio serrato e arguto che utilizzano attento che utilizzano Paolo e Pressburger e quindi alla fine si arriva poi al verticalismo che continua perché dalla balconata molto simile o la stessa addirittura dove c'era stato il primo incontro di Vicky con il suo futuro marito cioè il compositore il giovane compositore da quella balconata Vicky sceglierà diciamo il volo d'angelo verso la morte e proprio l'attrice ballerina Moira Scherer chiese a Paolo e Pressburger come doveva gettarsi dalla dalla balconata e ci fu proprio noi sappiamo grazie ai nostri fonti conosciamo il dialogo che è avvenuto tra l'attrice e i registi questo volo suicidio che deve concludere il film la Scherer chiese a Paolo se doveva saltare come una ragazza che si suicida o come una ballerina e Paolo rispose come una ballerina votata alla sua arte sino alla morte e quindi il cinema che deve essere più grande della vita più importante della vita l'arte che diventa una sorta di ossessione di droga che condiziona anche la vita di Vicky e non potrebbe essere altrimenti ma andiamo con ordine facciamo un passo indietro torniamo all'inizio del dramma perché la vicenda si apre proprio con un espediente molto accattivante interessante che ci fa entrare subito dentro la storia nel modo migliore perché il giovane compositore cioè tra i giovani che sono entrati al teatro c'è anche un giovane compositore che nello spettacolo che sta ascoltando e vedendo riconosce le sue note che gli sono state rubate i pezzi i suoi brani musicali gli sono stati rubati dal suo maestro di musica che è il sedicente autore dello spettacolo che stanno vedendo e quindi esce dal teatro assolutamente allibito sconvolto da quello a cui ha assistito cioè un furto però come gli spiegherà poi l'impresario è meglio essere derubati che derubare perché per un artista rubare è molto frustrante è molto diciamo così è una vergogna è qualcosa di assolutamente empio e umiliante si perde la propria dignità quando si ruba per un artista quindi c'è anche questa sorta di dogmatismo della creazione la creazione non può fare non può scendere a compromessi l'artista deve creare qualcosa di originale di personale che non può assolutamente venire a patti con niente e con nessuno e questa sarà la lezione che imparerà il nostro protagonista questo inizio diciamo così ci fa capire già quante problematiche poi ruotino intorno all'arte e quante ossessioni poi ci siano in questi artisti anche giovani come è giovane Vicky Page e che sono pronti a tutto pur di realizzare questo sogno di perfezione questo sogno di purezza questo sogno di creazione che li accomunerà all'impresario che loro devono ancora conoscere Lermontov ma che è famoso per tutti i suoi allistimenti teatrali che lasciano sbalorditi e lasciano senza fiato e infatti poi noi attraverso poi la vicenda della prima ballerina che si sposa e di conseguenza abbandona la vita della prima ballerina dell'artista e noi capiamo in realtà come questo universo sia in continua trasformazione e come si entra e si esca da questo mondo in base alle scelte che vari personaggi fanno quindi in realtà Powell e Pressburg Pressburg soprattutto che ha realizzato la sceneggiatura partendo da la novella La favola di Hans Christian Andersen appunto ha avuto questa sorta di grande tema su cui riflettere e grande tema che noi cogliamo anche nella sua complessità proprio dal primo dialogo che dalla prima conversazione che i giovani nell'Oggione stanno tenendo prima che lo spettacolo inizi il primo spettacolo inizi e questa conversazione è una sorta di battibecco molto acceso che si basa proprio sul fatto che poi in realtà l'opera del balletto ha un tipo di forza totalizzante che è poi un tema che tra fino a 800 inizio a 900 insomma non riguarda solamente il cinema e non riguarda solamente Paolo Eppesburger visto che adesso in questi giorni sto preparando la monografia dedicata a Lucchino Visconti e per forza di cose sto riflettendo su tante cose riguardanti Wagner il teatro come arte totale Visconti stesso in quegli anni anni 30 anni 40 lavorava anche a teatro con questa idea bene abbiamo già il primo dialogo la prima discussione il primo scambio di battute tra questi giovani che ci porta a riflettere sul fatto che nel teatro in questo caso nell'opera danzata subentrano tante suggestioni artistiche la musica la parte pittorica visiva il movimento e quindi noi abbiamo tante priorità tante cose da osservare quando assistiamo a tutte le tavole del genere e i giovani invece sono molto schierati hanno ancora una forma di come possiamo chiamarla fanno il tifo sono un po' fanatici della loro arte di riferimento non hanno ancora accolto l'importanza dell'universo che ruota attorno alla creazione artistica teatrale perché ci sono quelli che dicono noi siamo qui per ascoltare la musica quelli che vogliono vedere vogliono ascoltare vogliono vedere invece nel corso del dramma e nell'allestimento di scarpette rosse che accompagna i primi due atti se vogliamo dell'opera del film scarpette rosse noi vediamo proprio come il mondo del teatro sia un insieme di forme d'arte che devono raggiungere un equilibrio e si respira proprio l'attenzione da parte anche di artisti consumati perché questo equilibrio è difficile da raggiungere soprattutto è un'armonia che è legata ai dettagli e questi dettagli possono venire meno da un momento all'altro e quindi si può fallire da un momento all'altro quindi Paolo e Presbucci sono anche abilissimi nel catapultarci dietro il mondo del dietro le quinte scusate il gioco di Paolo nel mondo del dietro le quinte nel mondo dei preparativi nel mondo perché abbiamo il costumista scenografo abbiamo appunto il regista il musicista il compositore i ballerini sono tutti quanti in qualche modo partecipi della creazione che l'impresario come un grande direttore d'orchestra deve mettere insieme e deve far pulsare di vera vita ma questa vera vita c'è se tutti hanno fatto il massimo quindi noi all'inizio cogliamo una spaccatura una divisione che poi in realtà non è che però nella cui negazione sta il segreto dell'opera perfetta dell'opera totalizzante che è totalizzante come esperienza artistica come è totalizzante nella vita degli artisti che vi hanno lavorato e che non possono contemplare nessun altro tipo di distrazione per questa realizzazione per veicolare queste riflessioni fondamentali sulla perfezione dell'arte su come l'arte sia un insieme di fattori che devono coesistere in un modo perfetto Paolo e Pressburger lavorano in modo maniacale l'ho detto e lo ripeto sui dettagli della messa in scena cinematografica dove tutto deve essere perfetto i costumi del cinema sono fondamentali quindi abbiamo visto prima se vi ricordate si intravedeva la vestaglia verde dell'impresario Lermontov che serafico è davvero impassibile il giorno dopo il successo dello spettacolo insomma si sta godendo quello che ha realizzato invece poi in una sorta di atmosfera grigia dove i grigi nelle loro varie tonalità sembrano dominare il fotogramma abbiamo questo bagliore più acceso di una candela di una luce soffusa che arde però in modo estremamente energico e che si riverbera il cui calore si riverbera nel rosso della vestaglia che invece indossa questa volta il protagonista quando ha ricevuto la notizia che la prima Vicky Page si vuole sposare e quindi è finito in qualche modo quel miracolo che lui ha tentato di mantenere vivo a tutti i costi cioè fare della sua ballerina prima ballerina una sorta di proiezione delle sue ossessioni e soprattutto fare della danza l'esperienza totalizzante di quella ballerina che non doveva cercare di sezione di nient'altro e quindi abbiamo l'esplosione della furia nel protagonista che nel corso del film appare sempre così sicuro di sé la recitazione è perfetta con il suo sguardo felino oltre che luciferino controlla tutto è impassibile e nella sua eleganza ha una sorta di demoniaca perfezione esigenza di perfezione che lo anima e che lo fa essere sempre vigile che lo fa essere sempre votato al controllo attento ai dettagli e in quel momento invece esplode colpendo con un pugno quello che è un po' anche il simbolo di questo mondo fatto di apparenze fatto di un'immagine che deve essere perfetta e che noi dobbiamo continuamente contemplare e osservare c'è lo specchio perché nel film è costellato e a livello scenografico è pieno di specchi che creano quella dimensione di mondo capovolto mondo riflesso mondo legato all'apparenza e alla perfezione di geometrie e colori che è appunto lo specchio infatti sempre dopo lo spettacolo quando Vicky che sembra avere un'energia inesauribile va come prima per prima a esercitarsi la mattina dopo quindi entra nella palestra c'è questa vetrata a specchio che amplifica la profondità e le dimensioni della palestra sembra quasi davvero il punto di fuga essere all'infinito grazie a una scelta attentissima del punto macchina in realtà a metà dell'inquadratura c'è una vetrata che a specchio una parete a specchio che riflette però visto che la palestra è ancora vuota ci sembra un ambiente unico molto profondo quando Vicky entra per esercitarsi noi capiamo in realtà che si tratta di un ambiente che ha il suo riflesso nella parete a specchio mentre Vicky si sta esercitando poi arriva il primo ballerino arrivano due ballerini che interpretano il fabbricatore di scarpe e il compagno il fidanzato della protagonista e le fanno i complimenti loro che erano stati in qualche modo scettici o comunque non c'era ancora completa fiducia nelle doti di Vicky visto che durante le prove Vicky aveva mostrato qualche titubanza aveva mostrato qualche difficoltà nel realizzare quel tipo di perfezione che tutti esigevano in qualche modo da lei poi alla fine tutto va per il meglio infatti non te la sei capata male sei stata brava cioè si parte con una battuta eufemistica poi si arriva al complimento fuori dai denti per la bravissima Vicky Page che ha conquistato il pubblico con la sua esibizione e direi di soffermarci un attimo sull'esibizione perché è certamente il cuore del film non solamente perché sta al centro della vicenda ma anche perché ne rappresenta in qualche modo ne fornisce la chiave di lettura poi non voglio esagerare con le sovra letture però quando Vicky si allontana dalla compagnia perché si deve sposare e viene in qualche modo licenziata dall'impresario perché ha scelto una vita normale la compagnia sta lavorando a un altro spettacolo che è Amore e Psiche Cupido e Psiche ora non voglio fare secondo me non è casuale il riferimento a Amore e Psiche perché la favola di Amore e Psiche presente nelle metamorfose di Apoleio peraltro è presente proprio a metà dell'opera per fornire una chiave di lettura dell'intera opera di Apoleio di Amore e Psiche delle metamorfose di Apoleio e quindi diciamo così abbiamo un riferimento a un'opera che nella mia testa mi suscita questa riflessione e nel film Scarpette Rosse la vicenda di Scarpette Rosse della favola di Anderson che è trasformata in balletto viene allestita a metà del film circa metà e però fornisce la chiave di lettura di tutto il film quindi l'arte come ossessione l'arte come mania di perfezione l'arte come qualcosa di cui non ci riusciamo a liberare e che può portarci davvero alla disperazione totale alla morte la trama dello spettacolo teatrale che viene mostrato e che viene curato il cui allestimento viene curato nella prima metà del film è anche ci fornisce la chiave di lettura dell'intera opera Scarpette Rosse di Paolo e Presburgen quindi secondo me non voglio esagerare ripeto con le sue interpretazioni però è curioso che l'altro spettacolo che si sta preparando rimanda a un'opera che funziona allo stesso modo in cui funziona questo film rispetto allo spettacolo teatrale e questo spettacolo teatrale è anche la summa del cinema di Paolo e Presburgen perché è il cinema con la sua forza dirumpente visionaria che rende onirico e fantasioso mirabolante e amplifica la portata spettacolare del teatro di solito noi quando guardiamo certi film che hanno un impianto teatrale li analizziamo proprio evidenziando come quel film poi abbia un impianto teatrale in alcune soluzioni di regia di messa in scena eccetera qui invece è il contrario qui c'è un momento di teatro che diventa fortemente cinematografico perché si infrangono tutte le regole del teatro nel modo in cui quasi che il cinema fosse quell'arte totalizzante che il teatro non riesce ad essere e quindi se vogliamo anche in questo senso questo è un film manifesto perché sottolinea proprio l'impatto che il cinema può avere e l'insieme di suggestioni e di combinazioni artistiche che il cinema può orchestrare nella sua fantasmagoria che il teatro non si può permettere perché cosa succede? Succede che ci sono mille trucchi cinematografici che sono inseriti dentro questo spettacolo e Paolo Express Bulger costantemente ci ricordano che è uno spettacolo perché ci sono anche inquadrature dalle quinte inquadrature da dietro le quinte che ci fanno vedere che stanno comunque recitando su un palcoscenico ma non è un palcoscenico è un set anzi sono tanti set cinematografici che sono mescolati insieme con il montaggio e con l'uso avveniristico del montaggio con effetti visivi che sono particolari insomma grazie al montaggio cioè grazie a qualcosa di eminentemente cinematografico ad esempio c'è appunto il momento in cui la protagonista dello spettacolo il personaggio della ballerina si guarda riflessa nello specchio e guarda le scarpette rosse e c'è un gioco di riflessi che solamente il cinema può mostrare può presentare Paolo e Pressburger sono maestri nell'uso delle delle sovraimpressioni loro usano continuamente la pellicola in modo geniale perché ha la melies insomma impressionandola più volte anche impressionando più volte lo stesso fotogramma dividendo ovviamente oscurando una metà o l'altra del fotogramma riescono a creare dei giochi di apparizioni e sparizioni nello stesso inquadratore nello stesso fotogramma perché appunto impressionano più volte la pellicola oscurando o una metà o l'altra metà dell'obiettivo e del fotogramma in questo modo lavora solamente una parte del fotogramma un vecchio trucco del cinema ci mancherebbe che usa pure Zeme che si ritorna a futuro parte seconda per dire però sempre molto efficace poi lo utilizzano in modo estremamente suggestivo perché la suggestione nasce quando un personaggio passa da una metà all'altra dell'inquadratura e del fotogramma e quindi in qualche modo lì bisogna giocare con le dissolvenze come succede appunto in una scena di questo spettacolo teatrale però dicevo capiamo subito che si tratta di uno spettacolo cinematografico quindi uno spettacolo teatrale che si trasforma in spettacolo cinematografico metamorfosi questa ballerina infatti vede la sua immagine riflessa nello specchio e quindi c'è proprio nel fotogramma l'attrice che danza che vede se stessa riflessa nella vetrata indossa le scarpette con un taglio di montaggio quindi le scarpette sono dritte poggiate per terra lei si avvicina salta e se le trova subito messe ai piedi con un taglio di montaggio evidente con un trucco che al teatro sarebbe impossibile da realizzare e da lì si parte poi con una serie incredibile di invenzione perché in questo spettacolo si cambia continuamente scena si cambiano scenografie ma in realtà in modo assolutamente impossibile per uno spettacolo teatrale perché gli attori si muovono vanno dentro altre dimensioni altri mondi ma questa cosa a teatro prevederebbe la chiusura del sivario che ne so il cambiamento di scena veloce e rapido ma ci deve essere un cambiamento di fondali che invece non accade perché nel cinema invece questa cosa può avvenire passando da un set all'altro in modo estremamente fluido estremamente avvolgente estremamente dinamico estremamente poi poetico artistico ecco con quel tipo di coinvolgimento che invece il teatro non riesce a dare e poi senza contare poi la Vicky Page che a un certo punto precipita precipita in un'altra dimensione e quindi sembra librarsi nell'aria sembra volare con questa sorta di gioco di riflessi e gioco di fondali e questo verticalismo che in qualche modo segna la sua vita perché insomma di lì a poco la sua vita si concluderà proprio con un volo verso la morte e invece nell'arte questo volo è un volo d'angelo meraviglioso che non porterà alla morte ma solo alla creazione di un grande momento artistico e appunto dicevo c'è il momento in cui il maestro direttore d'orchestra sale sul palcoscenico e diventa il ballerino e lì c'è un gioco di appunto di dissolvenze particolari perché passando da una metà all'altra del fotogramma come ho detto prima cambia l'attore in modo assolutamente fluido e naturale non ci rendiamo conto c'è sempre davvero realizzato quasi con il digitale questo trucco per quanto è sofisticato e per quanto è naturale e riuscito bene senza contare che poi noi abbiamo nel corso del film giochi di luce e movimenti di macchine arditi in tutta la vicenda però è come se durante i 15 minuti di questo numero di questo spettacolo teatrale ci fossero proprio Paolo e Presburgia avessero portato alle estreme conseguenze tutta la ricerca visiva del film perché già nella precedente esibizione di Vicky Page con la sua soggettiva durante le pirouette avevamo visto proprio come la macchina da presa si prestava a questi giochi frenetici di turbini e di movimenti rapidi che in qualche modo erano tesi a esaltare la forza e l'energia del balletto e mi permette sottolineare come ovviamente poi lo spettacolo senza le scenografie poi non possa essere così forte e coinvolgente e le scenografie sono davvero ispirate peraltro a Rembrandt e a Van Gogh non solamente quelle dello spettacolo teatrale ma anche quelle del film in generale perché si nota chiaramente una ricerca pittorica che la regia plastica di Paolo e Presburgia sa esaltare sa utilizzare nel miglior modo possibile sempre però dando quel tocco che non ci aspettiamo ad esempio torno alla scena della balconata in cui Vicky e il suo futuro sposo si sono incontrati in quel momento passa un treno e c'è il vapore del treno che incornicia i due futuri sposi in modo molto suggestivo ed elegante perché poi si percepisce la brezza che li sta accarezzando visto che i loro capelli un po' si muovono soprattutto i capelli di lei e quindi anche se ci troviamo in uno studio anche se ci troviamo in un ambiente stilizzato e artefatto c'è sempre questa voglia di creare quell'atmosfera di naturalezza quel senso di naturalezza e appunto sarà poi il treno a travolgere Vicky quando si butterà dalla balconata arrivo del treno preannunciato dallo stesso sbuffo di vapore che aveva accompagnato il suo primo incontro e segnato il suo primo incontro con il suo futuro marito che è stato il suo momento di amore ma anche la sua dannazione perché ha preferito le è sembrato di preferire un amore piuttosto che un amore per una persona piuttosto che l'amore per l'altra proprio come suggello di questa incredibile partitura di questa sinfonia di immagini che prende corpo grazie alle intuizioni e alle trovate geniali di proprio Express Brugger c'è quella del mare perché scegliendo una inquadratura molto particolare ovvero da dietro le quinte in cui dovremo vedere il pubblico che sta osservando lo spettacolo mentre Vicky si esibisce in realtà a posto del pubblico c'è un mare c'è un oceano in tempesta e gli applausi sono come le onde che invadono la scogliera e noi vediamo proprio le onde del mare che invadono la scogliera e sentiamo il rumore del mare che in realtà si confonda a livello visivo perché non ci dimentichiamo che musica suoni sono un'altra componente fondamentale dell'arte totale e noi sentiamo appunto gli applausi scroscianti che sono come delle onde che si infrangono sulla scogliera e quindi notiamo proprio questa ennesima invenzione che è talmente potente perché il cinema è talmente potente che non è solamente capace di inventare cose che stanno sulla scena ma di inventare anche cose che dovrebbero stare nella realtà al di fuori della scena e cioè il pubblico che batte le mani in realtà assomiglia a un oceano che le cui onde si infrangono sulla scogliera quindi in questo momento conclusivo e decisivo dello spettacolo generale che è il consenso del pubblico e che è l'entusiasmo del pubblico noi abbiamo sempre il cinema che riesce a rendere e accumulare passioni emozioni e stati d'animo e condizioni realistiche ma in modo visivamente intelligente potente e accattivante non solamente perché ci troviamo ripeto sulla scena ma anche quando ci troviamo nella realtà che quindi viene interpretata attraverso un cinema sempre capace di arricchirsi di significati man mano che costruisce la sua storia e la imbastisce come nessun'altra forma d'arte sembrano dirci Paolo Presburge sa fare e è in grado di fare quindi quest'opera magniloquente potente a livello visivo avveniristica particolarissima ancora oggi emozionante è un'opera che non può mancare nella memoria collettiva di cinefili perché è davvero un'opera geniale un capolavoro di quel cinema visionario che tanto ha significato nella storia del cinema e che tanto ancora oggi deve significare perché è cinema all'ennesima potenza è puro cinema che ci dice tante cose anche sulla vita non solamente degli artisti ma anche di noi poveri esseri umani diciamo che non abbiamo il genio dell'artista ma che nell'arte riusciamo a trovare la più grande interpretazione del mondo nel quale viviamo questo più o meno è quello che volevo dirvi di Scarpette Rosse grande capolavoro di Paolo e Pressburger spero anzi sono sicuro che Paolo e Pressburger troveranno altri spazi su questo canale e ci mancherebbe altro visto che sono due maestri assoluti della storia del cinema grazie di cuore e di tutto mettete mi piace questa recensione se vi è piaciuto mettete solo anche se non vi è piaciuto ricordatevi di iscrivervi al canale di attivare la campanella delle notifiche e non dimenticate soprattutto la cosa più importante che vi direbbero anche Paolo e Pressburger e cioè pedinatemi grazie a tutti